Salve a tutti e benvenuti nella Galleria della Dissage Art. Io sono Laura e vi racconterò di storie nascoste all'interno delle opere d'arte. Storie di drammi, di dissing, di fattacci… perché a noi il disagio piace. Oggi vi racconto di un dissing tra due grandi personalità del barocco, ovvero tra Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Avete presente quando c'è una persona che vi sta particolarmente sulle scatole e gira a gira ve la trovate sempre in mezza ecogra. Questo è esattamente il rapporto tra Bernini e Borromini. Si trovano a dover spartirsi la scena all'interno della Roma seicentesca, scontrandosi quasi continuamente. La loro è una rivalità aperta, manifesta sotto gli occhi di tutti ed esistono tanti aneddoti al riguardo. Volte in cui si sono presi a male parole durante riunioni ufficiali col papa, oppure volte in cui si sono apertamente beffeggiati attraverso le loro opere. Ed è proprio questo aspetto ad interessarci, dato che a noi piace il gossip. Anzitutto è il caso di presentare brevemente questi due personaggi. Da una parte abbiamo Gian Lorenzo Bernini, nato verso gli ultimissimi anni del 1500 a Napoli. La sua carriera inizio affiancando suo padre, ovvero Pietro Bernini. Gian Lorenzo è un artista molto amato dalla maggior parte dei papi che si susseguono nel corso della sua vita. Per cui ha delle committenze veramente vip, anche perché lui è un artista molto dotato e soprattutto polietrico. È architetto, scultore, pittore, scenografo, commediografo, costumista. Un po' una Lady Gaga del 1600. D'altra parte, come spesso capita agli artisti, ha anche un carattere di merda. In più si macchia di azioni decisamente molto gravi. Ad esempio, quando scopre che la sua amante Costanza Bonarelli lo tradisce con suo fratello, Luigi Bernini, lei la fa sfregiare da un suo servitore e a lui lo riempie di mazzate con una spranga di ferro, rompendogli due costole. Diciamo che sicuramente Gian Lorenzo non è una persona diplomatica, anzi è piuttosto fumantina. Dall'altra parte abbiamo invece Francesco Borromini, nato anche lui negli ultimissimi anni del 1500, però nel canto anticino. È praticamente coetaneo di Gian Lorenzo, è più piccolo di un anno. Comunque il suo vero nome è Francesco Castelli e probabilmente il soprannome Borromini deriva da una grande devozione di Francesco nei confronti di San Carlo Borromeo. Francesco a soli nove anni viene spedito dal padre a Milano per fare apprendistato come scalpellino. Pensateci, c'era chi di noi a nove anni faceva i disegnini cretini su Paint e invece lui era già al suo primo stage. Ad ogni modo, dopo qualche anno Francesco si stufa dell'ambiente lombardo e quindi dopo qualche ricerca su LinkedIn capisce di doversi trasferire a Roma per far decollare la sua carriera. Arrivato a Roma si affianca a Carlo Maderno, architetto che all'epoca era impegnato nel ruolo di capo cantiere per i lavori di modifica niente povode meno che della Basilica di San Pietro. Ed è proprio durante i lavori di San Pietro che comincia la rivalità, a causa di divergenze personali e artistiche, tra Gian Lorenzo e Francesco. Inizialmente i due si trovano a lavorare assieme, infatti Francesco assiste Gian Lorenzo nel progetto del baldacchino di San Pietro, ma dopo un po' ahimè i due cominciano a non sopportarsi. Se Bernini ha un carattere estroverso ma nelloquente, dall'altra parte Borromini è molto introverso, chiuso, scorbutico e soprattutto gli rode tantissimo il culo che Bernini sia sempre il preferito delle committenze. Diciamo che sono un po' come Gastone e Paperino, i loro committenti sono molto diversi. Gian Lorenzo è l'artista dei papi coi big money, a parte nel periodo di Innocenzo X che invece gli preferisce Borromini, mentre Francesco ha spesso a che fare con ordini monastici molto umili. All'epoca il papa in carica è Urbano VIII, cioè Maffeo Barberini. La famiglia dei Barberini è totalmente in fissa con Gian Lorenzo, motivo per il quale lui riceve subito subito l'incarico per la realizzazione del baldacchino. C'è però un piccolo problema. Il baldacchino infatti deve essere realizzato in bronzo e il nostro Gian Lorenzo, per quanto bravo a fare tutto, del bronzo non sa una mazza, mentre invece è molto esperto nell'ambito del marmo. Molto preparato in fatto di fusione e modellazione del bronzo è invece Francesco Borromini. Molto spesso si sente parlare del baldacchino come di un'opera di Bernini e il fatto che non venga quasi mai menzionato l'apporto che diede Borromini ci fa capire che forse Francesco non avesse tutti i torchi a rosicà. Anche il coronamento del baldacchino con queste forme a dorso di delfino, per esempio, è un'idea di Borromini. A un certo momento Carlo Maderno, che ricordiamoci era il capocantiere della fabbrica di San Pietro, tira le cuoia, andando così a salutare San Pietro direttamente di persona. Borromini a questo punto si aspetta di ereditare il suo ruolo, anche perché era stato suo assistente fino a quel momento e conosceva tutti gli aspetti, anche i più segreti del progetto. E invece, indovinate un po', la direzione della fabbrica di San Pietro passa a Bernini, perché aveva la raccomandazione del papa. E già questo, comprensibilmente, fa girare le palle di Borromini. Uno scontro aperto tra i due avviene durante una delle riunioni per decidere di alcuni aspetti progettuali legati alla facciata della basilica. Infatti, all'epoca si volevano costruire due torri campanarie a completamento del prospetto principale di San Pietro. Bernini è a capo di questa iniziativa, ha anche presentato un progetto, ma c'è qualcuno che è assolutamente contrario. Infatti, il nostro Borromini si ricordava molto bene che Maderno, autore della faccetta di San Pietro, aveva riscontrato dei problemi piuttosto gravi nel terreno di fondazione su cui poggia la basilica. Durante i lavori all'epoca era stata scoperta una falda acquifera, a cui si era rimediato con una sorta di consolidamento delle fondazioni. Sta cosa Francesco la sapeva proprio perché era stato assistente di Maderno e quindi conosceva tutti i segretucci del progetto. Quindi il peso ulteriore di due torri campanarie avrebbe potuto compromettere gravemente la stabilità strutturale della facciata. Nell'esporre però questa sua obiezione, tra l'altro, sensatissima e Borromini non usa dei modi pacati, gentili, in qualche modo educati nei confronti di Bernini, ma lo prende apertamente a male parole davanti al Papa. E gli dice, no, sta cosa non si può fare, Giallore, ma tu non capisci un c***o, ma sei un c***o, maledetto c***o, ma figlio della c***o, ma non capisci veramente un c***o. Io se fossi stata il Papa ovviamente avrei tirato fuori i popcorn, perché va bene la riunione, però è questo il vero intrattenimento. Fatto sta che Giallorenzo, forte delle simpatie del Papa, è sicuramente più considerato di Francesco, per cui a Borromini non viene dato ascolto. Si procede pertanto alla costruzione di queste torri campanarie progettate da Bernini, però ecco che dopo pochissimo tempo compaiono delle strane lesioni alla base della facciata. Ecca là, fermi tutti, smontiamo stiego mostri che qua crolla l'universo. Diventa quindi evidente che Francesco avesse in effetti ragione, e Giallorenzo fa una bellissima figura di me. Un altro gossip sulla loro rivalità ci viene tramandato in occasione dei lavori sul palazzo di propaganda fide. L'incarico del progetto inizialmente viene affidato da Papa Urbano VIII Barberini, ovviamente a Giallorenzo, ma quando Urbano muore, il nuovo Papa è Innocenzo X della famiglia Panfili, famiglia che era avversaria dei Barberini, per cui l'ultima azione dei lavori passa nelle mani di Francesco, che è il preferito dal nuovo Papa. Innocenzo X, tra l'altro, ha anche il dente un po' avvelenato con Bernini, perché lo ritiene responsabile delle lesioni che si sono provocate sulla facciata di San Pietro. La ragione è colpa tua. Fatti. Motivo per il quale non solo gli fa smontare le torri progettate da lui, ma glielo fa fare totalmente a sue spese. E qui noi godiamo, comunque. Sì, molto. Tim Borromini per sempre. Sono contenta. Insomma, Giallorenzo per qualche tempo è costretto ad abbassare un po' la crespa. Ma in tutto ciò, il palazzo di propaganda fide sorge proprio di fronte alla casa in cui abita Bernini. A questo punto si dice che Borromini abbia voluto apertamente insultare il suo nemico, facendo scolpire due grandi orecchie d'asino sulla facciata dell'edificio casualmente rivolta verso casa di Bernini. Giallorenzo reagisce a questo affronto in maniera sicuramente pacata e matura, e quindi realizza un enorme fallo sul cornicione di casa sua, rivolto verso il cantiere di Francesco. Beh, considerate che una volta non c'erano i social per farsi dissing. Il problema è che queste robe si vedono dalla strada. Da una parte c'è il palazzo con le orecchie d'asino e dall'altra c'è il palazzo col cavo. Per cui, per motivi di decoro pubblico, a tutti e due viene ordinato di smantellare questi dettagli poco sobri. Peccato. Ma arriviamo al gossip più noto che riguarda la rivalità tra questi due artisti, ovvero quello della Fontana dei Quattro Fiumi e di Sant'Agnese in Agone. L'incarico della realizzazione della Fontana dei Quattro Fiumi viene affidato da Innocenzo X a Giallorenzo Bernini. E voi direte, ma scusami, non gli stava sulle palle. Infatti. Ma succede una cosa molto auma auma. Giallorenzo ha capito che deve fare qualcosa per risollevare le sorti della sua carriera, specie dopo la figuraccia fatta con le torri di San Pietro. Poi questo papa non lo sopporta. Quindi elabora uno stratagemma. Inizialmente, infatti, questa commissione viene affidata, indovinate a chi? A Borromini. Però Bernini, zitto zitto, realizza un modellino d'argento del suo progetto per la Fontana dei Quattro Fiumi e lo fa introdurre segretamente nel Palazzo Pontificio. Quando Innocenzo lo vede, se ne innamora e non capisce più niente, al punto che nemmeno gli interessa che sia opera di Bernini. Per cui il papa cambia idea e la commissione passa già a Lorenzo. E poi dici che Borromini non si deve incattare. Ora, la Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini si trova in Piazza Navona, giusto giusto di fronte a Sant'Agnese in Agone, che è di Borromini. La bellissima Fontana è caratterizzata da un vistoso belisco antico. Mi sa che Gian Lorenzo sta cosa dei simboli fallici un po' ce l'aveva. Sostenuto da una scogliera in basso che presenta un'apertura a modigrotta. Su questa scogliera siedono quattro figure umane gigantesche. Queste sono la personificazione dei principali fiumi dei quattro continenti noti all'epoca. Quindi abbiamo il Danubio per l'Europa, il Rio della Plata per l'America, il Gange per l'Asia e il Nilo per l'Africa. Notiamo che il Gange ha una mano protesa verso Sant'Agnese. Secondo le malelingue dell'epoca, c'è la mano in quel modo per timore che la facciata di Sant'Agnese gli crolli addosso. Quindi quasi come a ripararsi dall'imminente catastrofe. Il Nilo invece avrebbe il volto velato per coprirsi dalla vista dell'opera di Borromini, come a voler intendere che è brutto e fa schifo. Per quanto mi piaccia pensare che questo gossip sia vero, ma purtroppo per onestà intellettuale devo dirvi che non è così. Si tratta di calunni e maldicenze. Ormai si erano creati dei veri e propri schieramenti tra i due artisti, per cui la loro rivalità veniva ulteriormente fomentata da questi aneddoti. Ma la fontana dei quattro fiumi è di pochi anni precedente a Sant'Agnese, quindi non può essere. Il motivo per cui il Nilo ha il volto coperto in realtà simboleggia il fatto che all'epoca le sue sorgenti non fossero note. Ad ogni modo il successore di Innocenzo X è Alessandro VII Chigi, che nuovamente predilige Bernini. Giallorenzo quindi risorge dalle sue generi come l'araba fenice e Francesco viene nuovamente oscurato dal suo successo. Non solo. Borromini cade proprio in disgrazia. Questo perché i suoi nemici tentano di sabotarlo in ogni modo. Perde committenze, lui stesso si inasprisce, si chiude ancora di più e le allontana di conseguenza. Purtroppo alla fine Francesco si toglie la vita. L'episodio che riguarda il suo uccidio è molto particolare e per questo voglio raccontarvelo. Praticamente verso gli ultimi anni della sua vita Borromini era sempre più in preda ad attacchi depressivi e neurotici. Soffriva di insonnia e quando durante la notte si svegliava si metteva subito al lavoro su qualche nuova idea o a scrivere o a progettare e questo secondo il suo medico peggiorava la sua condizione di nevrosi. Per cui sempre il suo medico ordinò che non gli venisse acceso il lume qualora si fosse svegliato durante la notte. Proprio perché così non avrebbe avuto modo di scrivere, di progettare e sarebbe stato costretto a tornarsene a letto. Una notte quindi Francesco, in preda ad una nevrosi, si sveglia e ordina al suo servo di accendergli il lume. Ma il suo servo, attenendosi alle indicazioni del medico, non obbedisce. Borromini, col suo stato mentale gravemente compromesso e in preda a questo attacco nevrotico, ha una crisi vera e propria e dalla disperazione decide di togliersi la vita gettandosi sulla sua spada e trafiggendosi un fianco. Poveretto però non muore nemmeno subito subito perché ci mette circa un giorno e mezzo a tirare le cuoia. La cosa veramente singolare è che è lui stesso a spiegarci i motivi di questa sua azione e lo fa dopo averla compiuta, quindi nel lasso di tempo in cui sta morendo. Perché in quel giorno e mezzo, prima di andare a salutare San Pietro oppure lui, ha tutto il tempo di dettare le sue disposizioni testamentarie e di spiegare i motivi del suo folle gesto. Così, con Borromini purtroppo definitivamente fuori dai giochi, si conclude la rivalità tra Francesco e Gian Lorenzo, consacrata però all'eternità attraverso fatti e gossip dell'epoca. Ecco quindi che vi ho deliziati con un bellissimo dissing barocco. E voi conoscevate questa storia? Fatemelo sapere nei commenti. Io intanto vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e alla prossima con altre storie d'arte e disagi. Ciao! Ciao! Ok, facciamo passare la macchina con la musica tamatra, ovviamente. Aspetta che vi passa anche i succurumotori. Che cos'è? Questo è con dei vetri singoli in casa che ti tremano. C'è pure da dire che sono la terza regola antichistica. E mi fa brululu lo stomaco nonostante la bistecca di prima. Ma vabbè, brululu? Sì. Per risollevare le... Le gnorfi. Purtroppo... Eh vabbò, eh, eh, un motore. Con Romini era sempre più... Che c'è? Ti l'hai dimenticata a metà frase. Totalmente. Che c'è?